Ho messo a verbale con la collega Bonetti la non condivisione di quella parte del decreto legge. Il decreto legge andrà in Parlamento e il Parlamento nella sua sovranità dovrà legiferare. Perché? A chi mi ha accusato di irresponsabilità credo di non dover dare alcuna risposta, perché francamente qui non ci sono i tutori della salute e quelli che vogliono invece aprire tutto. C'è soltanto del buonsenso, perché io credo che anche nel legiferare bisogna farsi orientare dal buonsenso. Ora, io mi chiedo se ha un senso mettere le persone in condizioni diverse nello stesso Paese. Chi abita nella città di Roma per andare da un quartiere all'altro magari deve fare 30 chilometri. Chi abita nella mia provincia per andare da un comune all'altro a volte deve fare 3 chilometri. E in tante altre province d'Italia. Allora noi permettiamo che le persone che abitano in città possono muoversi, andare a trovare un genitore anziano, magari ai genitori separati andare a trovare i figli per fare una carezza, per portare un regalo, per fare un augurio, non per fare feste. Chiaro. Semplicemente per farsi gli auguri e non lo permettiamo invece a chi vive in provincia. Allora, siccome io credo che le norme devono corrispondere a un senso comune e devono essere accettate dalle persone, perché altrimenti le persone sono portate a non rispettare le norme. E questo è un errore che noi non ci possiamo permettere. Grazie. 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 Grazie.